Allora il tema è il crollo delle quotazioni dei criptoasset bitcoin e simili. Può essere un problema per gli altri mercati o per le economie? Sembra incredibile ma in realtà la risposta potrebbe essere di sì. Qualcosa che sta avvenendo sotto i nostri occhi ma di cui pochi parlano perché è probabilmente sottovalutato come fenomeno. Allora di cosa stiamo parlando? Quello che è avvenuto negli ultimi mesi è cronaca, non sto ad entrare adesso nel merito, eccessi speculativi su questi criptoasset, in particolare bitcoin, ethereum, litecoin, dogecoin eccetera. Ci sono oltre 5.000 di queste criptoasset, criptovalute, chiamatele come volete. Comunque mania speculativa, quotazioni che si sono moltiplicate per n volte in pochi mesi. Adesso siamo in una fase di profondo ricontenimento di tutti questi fenomeni e quindi bitcoin da 64.000, giusto adesso cominciamo a mettere giù dei numeri e vediamo il principale strumento bitcoin da 64.000 in questo momento quota 36.000 è comunque arrivata nei giorni scorsi a minimi di 30.000 quindi si è praticamente dimezzata nel giro di due settimane come normalmente accade quando scoppiano poi queste bolle speculative. Allora vediamo un attimo cosa vuol dire tutto ciò. Prendiamo soltanto in considerazione per semplicità le prime due per capitalizzazione, bitcoin ed ethereum. Il bitcoin in questo momento capitalizza 670 miliardi alle quotazioni attuali di poco meno di 36.000 dollari quindi 670 miliardi di dollari. Al momento in cui quotava intorno a 64.000 la capitalizzazione era di oltre 1 miliardo cioè 1.200 miliardi di dollari, 1,2 trilioni. Quindi con questo ribasso del circa 50% la capitalizzazione è crollata di 520 miliardi, solo quella di bitcoin, 520 miliardi. Ethereum dal canto suo che in questo momento capitalizza 300 miliardi di dollari all'epoca, quindi al momento in cui era ai massimi, quindi con quotazioni intorno a 4.370 mentre adesso quota 2.006 capitalizzava oltre 500 miliardi. Quindi il calo per Ethereum è stato di quasi 200 miliardi di dollari. Queste sono solo le prime due, solo le prime due che assieme fanno quasi in questo momento un trilione di capitalizzazione mentre la capitalizzazione totale di tutte queste criptovalute è di 1 miliardo e 6 in questo momento. Quindi traduciamo, bitcoin ha perso 500 miliardi, Ethereum ha perso 200 miliardi, solo queste due fanno oltre 700 miliardi di perdita. Se contiamo anche le altre criptovalute arriviamo probabilmente intorno al trilione di dollari. Cosa vuol dire tutto questo? Diamo un ordine di grandezza, quindi abbiamo detto bitcoin ed Ethereum assieme perdono 700 miliardi. Alle quotazioni del 4 di giugno la capitalizzazione complessiva di piazza affari era di 750 miliardi di euro. Quindi praticamente è come se fosse sparita in due settimane ricchezza equivalente a Enel, Stellantis, Sintesa, San Paolo, Eni, Ferrari, STM, Generali, Unicredit, CNHI, Exor, Snamrete Gas, Moncler, Poste Italiane eccetera 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 fino ad arrivare alla n millesima società quotata in Italia tutte sparite. Ora questa distruzione di ricchezza tra virgolette non è avvenuta nei conti di Warren Buffett, cioè non è avvenuta nei conti di chi può permetterselo o di chi specula, può darsi qualche hedge fund ma personalmente dubito. Io credo che per la maggior parte queste perdite siano adesso imputate ai portafogli di tutta una serie di persone che in questi mesi, in questi anni, sono diventati seguaci, fanatici, supporter, chiamiamoli come vogliamo, di questi strumenti e in particolare di personaggi come Elon Musk, ma non c'è solo lui, che nel recente passato hanno appunto fatto in modo di, in qualche modo, appunto attirare l'attenzione, diciamola così, su questi strumenti, sugli investimenti, sulla comunque speculazione, comunque sul metter soldi in questa roba. Ecco, perché citiamo Elon Musk? Perché l'ultima fiammata del bitcoin, quella partita nel mese di febbraio che l'ha portato dalle quotazioni all'epoca intorno a 30-35 mila fino ai massimi 60 mila, ha coinciso con appunto l'annuncio da parte di Tesla e quindi di Elon Musk che Tesla comprava, ecco vediamo qui, Tesla compra 1,5 miliardi in bitcoin. Quindi se queste cose lo sa, si ricorderà, era l'8 febbraio quando Tesla e appunto Elon Musk annunciavano di aver investito un miliardo e mezzo di dollari in bitcoin e anche che da quel momento il bitcoin era accettato come moneta di pagamento per l'acquisto delle loro autovetture. Milano Filanza all'epoca giustamente titolava Tesla che compra bitcoin un altro campanello d'allarme, sicuramente sì, la cosa fantasmagorica è che nel giro di, quindi era febbraio, ora nel giro di quattro mesi, all'improvviso Elon Musk scopre che i bitcoin inquinano e fa retromarcia. Questo è il titolo del fatto quotidiano, all'improvviso Elon Musk scopre che i bitcoin inquinano e fa retromarcia, Tesla non ci investirà più, quotazioni a picco meno 16%. Ora, questo lascia sbigottiti e dovrebbe qualsiasi persona intelligente cominciare a dire di cosa stiamo parlando. Ma quando certa gente esprime un'opinione, comunque condiziona milioni di follower a fare certe cose, ma abbiamo la capacità di discernere, no? Perché, allora, che all'improvviso Elon Musk, è chiaro che qua il titolo è ironico, all'improvviso cosa? Cioè, all'improvviso che il bitcoin consumasse una quantità spropositata di energia era noto a tutti ed è noto a tutti da anni. Ricordo soltanto che attualmente il bitcoin consuma oltre 120 terawatt ora per anno di energia elettrica, che, sempre traducendo per dare ordini di grandezza, consuma più di un paese intero come l'Olanda. E, sempre per dare un termine di paragone, il consumo del bitcoin è equivalente al 40% dei consumi elettrici dell'Italia. Ok? Quindi questo oggi, ma questa è una cosa nota da sempre. Ne parlavamo noi nel blog di, cos'era, fine 21 gennaio, no? 21 gennaio, quando venivano ripescate, tra l'altro, queste notizie del 2020, il network del bitcoin è già nel 2020, era arrivato a consumare come sette centrali nucleari. Ok? Ci voleva l'energia di sette centrali nucleari. E nel 2019, quindi un anno prima, eravamo già a 58 terawatt ora, quindi ora siamo al doppio, quindi 120, quindi già nel 2019 consumava come la Svizzera. Quindi queste erano cose assolutamente note e stranote a tutti. E la quantità di CO2 che viene emessa a causa della produzione di energia necessaria a sostenere la rete del bitcoin è un qualcosa di mostruoso. Quindi dirci che all'improvviso, cioè, Elon Musk nel giro di quattro mesi, scop, prima dice vive bitcoin, poi dice no, ci ho ripensato, consuma. Cioè, a un certo punto uno dice, ma siamo davvero tutti così fessi? Questa è la mia domanda. Ok? Quindi questa è un po' la considerazione che poi si aggancia a tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, che comunque anche nel mio blog, vedete, già è da dicembre che più o meno ci si sta sforzando di cercare di informare tutti quanti sulla pericolosità dell'attività di speculazione su questi strumenti, ma ora siamo al punto in cui appunto un trilione di dollari è sparito dai conti probabilmente di tanta gente che ha lavorato anche a leva e tutto ciò in passato poi ha prodotto chiaramente delle conseguenze sia sui mercati sia sull'economia, perché comunque fate conto che tutti questi soldi che erano di tanta piccoli operatori, trader, speculatori improvvisati, ricchezza che comunque sparisce, che non è più disponibile e che potrebbe avere un peso poi sui consumi, sull'economia, sulla liquidazione di altri asset in altri mercati per poter rientrare nei margini per quelli che lavoravano a leva, eccetera, eccetera. Quindi, conclusione, siccome tra l'altro il movimento dal punto di vista tecnico al ribasso del bitcoin è tutt'altro che finito, perché dal punto di vista tecnico ci troviamo adesso in una fase laterale, quindi non c'è stato un rimbalzo significativo dopo il tonfo a 30.000, non è escluso che la discesa non sia ancora finita, quindi attenzione e volevo semplicemente richiamare appunto l'attenzione di tutti, magari a prestare, a dare un occhio a quello che succede in questo campo perché appunto non se ne sta parlando per ora, o meglio ho sentito solo pochissimi interventi di appunto osservatori indipendenti, ma i media non stanno per il momento dando molto peso a questi avvenimenti. Va bene, è tutto, raccomando sempre di scrivermi o comunque contattarmi per valutazioni gratuite sulle vostre posizioni di portafoglio, sulle vostre idee o sui vostri appunto desideri per quello che riguarda il settore investimenti e gestore e gestione del risparmio personale e vi ringrazio intanto per l'attenzione e appuntamento al prossimo blog.